Era stata la prima allenatrice di Paola Egonu, era stata lei a scommettere per prima sulle sue doti di pallavolista. Fabiola Bellu, 61enne, allenatrice di volley, è morta improvvisamente ieri nella sua casa di Galliera Veneta. La donna, originaria di Santa Giustina in Colla, era molto nota nell'ambiente della pallavolo, soprattutto nell'Alta Padovana. Aveva allenato ai suoi esordi la campionessa di Cittadella, Paola Egonu, e si era sempre dedicata al volley. Attualmente era l'allenatore della squadra femminile di volley di Rosà, in provincia di Vicenza, che milita in seconda divisione. Fabiola Bellu è stata trovata priva di vita dal marito, era sul divano con gli occhi chiusi. Nonostante il tempestivo intervento del suo, ma per la donna non c'era più nulla da fare e di fatto sembra sia passata dal sonno alla morte. Non si esclude che possa essere effettuata un'autopsia per definire con precisione le cause del decesso.